ciao vediamo qual è il messaggio che ti deve arrivare quindi c'è un messaggio che a qualcuno è destinato ok allora qui c'è un tre di denari quindi io ti vedo in compagnia o almeno ti vedo insieme a delle persone che sono collaborative quindi c'è una voglia di fare qualcosa insieme una costruttività ok qualcosa da fare insieme di positivo e mi viene da dire con quest'otto di coppe che queste nuove persone o queste persone anche se non sono nuove ok con cui tu farai delle cose ti porteranno al di là del quadro cioè tu finalmente ti metterai alle spalle un periodo magari un po faticoso ok quindi è sicuramente un sono sicuramente collaborazioni amicizie conoscenze molto positive però abbiamo questo nove di spade allora il nove di spade è una carta di ansia di preoccupazioni allora io quello che sento che mi arriva che tu sei hai un'ansia un po anticipatoria cioè abbandoni un qualcosa del tuo passato ok con quest'otto di coppe e hai un'ansia anticipatoria hai paura no di quello che di come potrà essere il tuo futuro ok il fante di bastoni è una carta positiva quindi queste tue diciamo paure questi tuoi timori vengono un po come posso dire sopiti da delle comunicazioni ci sono delle comunicazioni per te vediamo se sono queste comunicazioni di cui tu hai paura che tu temi ok perché potrebbe essere anche questo che magari si stai lasciando una parte il tuo passato inizia fai nuove conoscenze e nuove collaborazioni però magari c'è qualcosa c'è potresti avere timore di qualche comunicazione vediamo se è questo pure ci sono delle comunicazioni vediamo che tipo di comunicazione è questo ok sete di bastoni allora probabilmente c'è al di là del fatto che tu stai abbandonando no una parte del tuo passato è rimasto forse qualcosa legato a delle comunicazioni che ti fa tenere un po le difese alte oppure è questa persona che magari ti comunica qualcosa che ha le difese un po alte ok e che spiegherebbero i tuoi timori o le tue ansie andiamo a prendere un'ultima carta regina di denari allora tutto finisce bene nel senso che io ti vedo anzi vedo che questa comunicazione che tu avrai ti come posso dire spazzerà via tutti i tuoi timori le tue ansie tu arriverai a capire grazie anche a queste comunicazioni a questa comunicazione a questo questa comunicazione che vali tanto cioè tu prenderai consapevolezza del tuo valore ok e quindi anche queste nuove conoscenze queste nuove collaborazioni che tu inizi perché hai iniziato con un tre di denari mi finisci con una regina di denari significa che ti daranno tanta autostima e tanta consapevolezza del tuo valore questa comunicazione sarà un qualcosa che ti farà capire quanto vali ok quindi è un bel messaggio è un messaggio che riguarda il tuo valore la tua persona quanto vali ed è assolutamente un messaggio positivo che va anche un po' a spazzare via quelle che sono le tue ansie e di tuoi timori ok ciao